Era nato con un talento che lo rendeva unico nel genere umano. Gignonaso conosce tutti gli odori del mondo. È la loro bellezza in se stessa che gli vuole. Ogni fanciulla è soltanto una nota, nella sua perfetta, crudele sinfonia. Per il ciclo Once Upon a Time. Profumo. Storia di un assassino. Domenica alle 21. Con Iri.